Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video oggi, molto veloce, devo semplicemente togliere il pannello qui del portellone del baule e nulla, vado intanto a togliere l'unica vite che si trova qua sotto, dove c'è la maniglia in poche parole eccola qua, questa è qui la vite da svitare, l'unica, basta un semplice cacciavite a croce, medio direi e poi dobbiamo andare a scastrare i vari ritegni, ma poi lo vediamo dopo una volta rimossa la vite, ecco qua, basta semplicemente tirare il pannello, partendo magari da un angolo per esempio e l'ideale sarebbe quello di utilizzare diciamo uno scalzatore come questi, da inserire insomma nell'insenatura e facendo appunto leva qui c'è abbastanza spazio, vediamo se riesco a farlo con la mano vediamo se riesco a farvi vedere anche solo qualche gancio, poi dopo gli altri li vediamo da smontati ecco fatto, vedete che si è appunto staccato il primo e poi andiamo man mano a scastrare anche tutti gli altri ok? adesso sono, non riesco a farvi vedere comunque poi una volta smontato adesso vi faccio insomma vedere dove sono i vari punti da tirare ed eccoci qua, pannello tirato giù, allora questo è un primo fermo come vedete poi ne abbiamo un altro qui, eccolo qua un altro, questa qui è la maniglia che abbiamo visto dall'interno qui c'è un altro, un altro qua, un altro là dietro, qui e qui qui in mezzo ne trovate un altro, insomma sono sparsi come vedete un po' tutto attorno al di sotto troviamo poi ovviamente quello che è diciamo il motorino dei tergicristalli abbiamo accesso al pulsante, quello che serve proprio per diciamo aprire il baule e nulla, poi c'è vabbè la chiusura vera e propria questo che arriva qui è il cavo di alimentazione dello Sbrinan 1.8 insomma vedete si va a collegare qua e anche da questo lato abbiamo qui diciamo l'altra connessione sempre per lo Sbrinan 1.8 per rimettere ovviamente la copertura basta semplicemente insomma riposizionare il pannello cercando di far coincidere i perni in questi fori diciamo e dargli dei bei colpetti in modo tale che si vadano a incastrare nuovamente e nulla, io vi ringrazio della visione e alla prossima, ciao!